Buonasera, siamo ancora qui perché come tutti sapete, se siete ancora qui davanti al teleschermo qui sulla 7, stiamo aspettando praticamente dalle 7 di questa sera quello che veniva prospettato come l'atteso intervento televisivo del Presidente del Consiglio in seguito al Consiglio dei Ministri che ha varato le nuove misure con cui tutti gli italiani dovranno fare i conti nei giorni di Natale, di Capodanno, dell'Epifania e dintorni stiamo aspettando perché il Consiglio dei Ministri in realtà si è concluso alle 20 ma non c'è stato finora il tempo per la conferenza stampa il nostro sospetto è che aspetti che finiscano tutti i programmi che si chiamano The Access Prime Time cioè tutti i programmi che arrivano prima della prima serata e poi quando ci sono tutti può iniziare una sorta di conferenza stampa a reti unificate non è malevolenza, penso sia quello che sta per succedere è il motivo per cui riteniamo che inizi tra pochi minuti o se non addirittura tra pochi secondi questa attesissima conferenza stampa le anticipazioni sono ancora quelle che avete sentito dal telegiornale o come legittimo se l'avete saputo da altre fonti ovvero Italia zona rossa 24, 25, 26, 27 dicembre poi ancora 31 dicembre 1 gennaio, 2 gennaio, 3 gennaio, 5 gennaio e 6 gennaio in mezzo ci sono 4 giorni, 28, 29, 30 di dicembre e 4 gennaio che sono in arancione questo vuol dire che una serie di limitazioni vengono meno ma poche in realtà per quanto riguarda ad esempio ristoranti, bar, esercizi di ristoro ci sarà la necessità della chiusura o dell'asporto ancora però noi non lo sappiamo è per questo che nel decreto legge è previsto un ristoro a quanto si è detto di 400 milioni a favore appunto degli esercenti di questa tipologia di commercio ovvero appunto ristorazione e bar e vi posso dire quello che si è detto in questi minuti ad esempio abbiamo durante il telegiornale detto che il primo a parlare è stato Franceschini via Twitter dicendo in buona sostanza, ve lo vado a riprendere in pochi secondi che si è trattato di provvedimenti necessari quanto duri e provvedimenti che comunque permetteranno apprezzo ovviamente di una situazione difficile di tornare a vivere bene e soprattutto di evitare la terza, la cosiddetta terza ondata per quanto, vabbè ve lo leggo ormai ci siamo Franceschini ha detto bene le nuove regole restrittive approvate dal Consiglio dei Ministri misure indispensabili per contenere i contagi e prevenire una terza ondata saranno un Natale e un Capodanno diversi per tutti ma il sacrificio va fatto perché servirà a evitare sofferenze e salvare vite Franceschini è il capodelegazione del PD nel governo il capodelegazione dell'altra principale forza il Movimento 5 Stelle è il Ministro della Giustizia Bonafede anche lui ha parlato, ha detto dobbiamo portare avanti la battaglia contro il virus con determinazione anche prendendo decisioni non facili sulla base delle valutazioni della comunità scientifica il Consiglio dei Ministri ha adottato misure importanti per queste festività natalizie ristorando le attività in difficoltà è necessario fare il possibile per proteggere la salute dei nostri cittadini con l'obiettivo di ripartire in sicurezza a gennaio queste le parole di Bonafede a sua volta perché ovviamente ci sono categorie c'è una categoria, quella dei ristoratori soprattutto che è inutile negarlo sul sentiero di guerra e per questo tutti insistono su questo anche il Ministro dell'Economia Gualtieri la tutela della salute resta la priorità del governo per questo il Consiglio dei Ministri vara nuove regole più restrittive per contenere i contagi durante le feste daremo pieno sostegno agli esercizi commerciali che subiranno danni economici affrontiamo questi ulteriori sacrifici insieme questo è quello che ha detto Gualtieri il Ministro dell'Economia che da qui dovrebbe partire comunque la linea di sostegno, di ristoro a favore appunto degli esercenti che vengono messi obiettivamente in fortissima difficoltà vi segnalo però una presa di posizione molto forte di una categoria profonda insoddisfazione e stupore per il modo in cui il governo vorrebbe intervenire sulla carriera prefettizia le voci che ci giungono sulla mancetta con cui l'esecutivo vorrebbe dare seguito alla richiesta di legittima perequazione del trattamento economico agli analoghi ruoli apicali delle altre amministrazioni è non solo irricevibile ma quasi offensivo per tutti i colleghi che stanno operando sul territorio soprattutto se rapportato al carico di responsabilità ed impegno richiesto auspicchiamo il giusto riconoscimento del nostro lavoro e non soluzioni che non fanno altro che confermare la disattenzione verso l'intera categoria questi i prefetti come vedete ci sono in questi minuti ovviamente prese di posizione di vario tipo una voce dall'opposizione intanto vi dico abbiamo sentito Violetto di Bonafede Violetto di Franceschini Violetto di Gualtieri la follia del governo dice Licia Ronzulli di Forza Italia due coppie vicine di casa con tre figli con meno di 14 anni a testa totale 10 persone possono fare un party due nonni con figlio nuore e un nipote di 15 anni a Natale non possono invitare nessuno non è un decreto legge ma un sudoku questa è la presa di posizione dell'esponente di Forza Italia vicinissima a Silvio Berlusconi vi vado a cercare altre prese di posizione Violetto del capodelegazione del PD Franceschini Violetto del capodelegazione del Movimento 5 Stelle Bonafede la capodelegazione di Italia Viva è Teresa Bellanova cosa dice? dopo la nostra sollecitazione è stata accorta in consiglio dei ministri la proposta di stanziare subito ristori per i bar e i ristoranti che devono chiudere per effetto delle nuove misure del governo così dice la Bellanova spiega poi la Bellanova questo è un argomento che interessa appunto le categorie di cui si parla che questo fondo per i ristori è da 550 milioni di cui 400 da distribuire già in questi ultimi 13 giorni del 2020 quindi è un fondo da 550 milioni dice Teresa Bellanova Giorgia Meloni tra poco ci sarà la conferenza stampa di Conte ottimista con le nuove misure per le festività natalizie se verrà confermata la stretta sul Natale mi aspetto che il Presidente del Consiglio si scusi con gli italiani per aver fatto in questi mesi delle norme rivelatesi completamente inutili come era stato ampiamente preannunciato ricordiamo che Conte aveva espressamente detto che le misure restrittive di novembre e di dicembre servivano a salvare il Natale questo non si è realizzato e il fallimento è confermato dai fatti la presa di posizione della leader di Fratelli d'Italia queste sono una serie di prese di posizione che fanno trasparire del resto un'unità di intenti del Governo ma anche la rivendicazione delle prese di posizione tant'è che secondo molti il fuoco cova sotto la città ma questo non è argomento di questa sera dopo la conclusione del Consiglio dei Ministri del resto sono state molte sono state molte le prese di posizione su questo ma anche va detto sull'altro provvedimento l'altro decreto che oggi è diventato legge col voto finale del Senato il decreto sicurezza su questo le prese di posizione sono tantissime come sapete qui si completa lo scontro tra centrodestra e centrosinistra sulle diverse concezioni rispetto alla questione dell'immigrazione dell'accoglienza della sicurezza e anche però lo scontro fratricida se posso dire in questi termini tra gli ex alleati di governo del Conte 1 ovvero Movimento 5 Stelle e Lega che votarono insieme i provvedimenti i decreti salvini e che si trovano su sponde opposte adesso nel voto sul provvedimento che ha visto la luce questo pomeriggio Conte se se le mie supposizioni di qui vi dicevo prima hanno un senso parlerà tra pochi secondi sull'allineamento della fine dei programmi di accesso alla prima serata sulle varie reti televisive non è un segreto vi devo dire ancora della posizione di Salvini ma l'avete forse già sentita anche a 8 e mezzo quella posizione io uscirò per andare a portare in qualche modo ristoro e doni ai bambini bisognosi su questo si apre una polemica però ecco 21 e 45 che bello allora allora ci è stato detto che avete sentito forse sottofondo la voce di Gaia Tortora che mi ha informato che secondo le informazioni che arrivano da Palazzo Chigi si va alle 21 e 45 questo è l'orario in cui il Presidente del Consiglio otterrà la sua conferenza stampa fra l'altro adesso arriva la conferma ufficiale che è del portavoce che tutti sapete è Rocco Casalino che fra l'altro non è una comunicazione privata il motivo per cui c'è questo ritardo c'erano delle misure del MEF per il ristoro che ancora non erano state completate ed è questo il motivo del del ritardo secondo la fonte ufficiale che ovviamente noi vi citiamo di Palazzo Chigi comunque siamo a questo punto nella possibilità di dire scarichiamo della pubblicità e ci vediamo subito dopo il break eccoci ancora qui attendiamo per qualche minuto ancora si presume debba durare l'attesa il collegamento con Palazzo Chigi per la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte che deve illustrare il decreto che modifica le misure che erano state già annunciate all'inizio di dicembre e che dovevano essere valide fino all'epifania ma che vengono inasprite in considerazione della difficile situazione che permane nel paese a causa della pandemia la sostanza del discorso è questo si sperava del resto era stato lo stesso Conte a spiegare che i precedenti provvedimenti i precedenti DPCM erano volti proprio a fare sacrifici per avere un Natale in sicurezza e anche in serenità invece le curve come si dice ormai non si sono abbassate a sufficienza un termine pietoso in qualche modo per non dire che siamo l'unico paese che continua a viaggiare a un ritmo che in questi ultimi tre giorni è stato sempre attorno alle 680 vittime e questo vuol dire che vuol dire è terribile ma stiamo parlando quindi di 20.000 morti in tre giorni praticamente di questo stiamo parlando e di un indice di positività cioè il rapporto tra tamponi e positivi che è ritornato a quota 10 ed è assolutamente quindi non in una situazione che può essere definita sotto controllo peraltro siccome da tempo abbiamo perso il tracciamento l'app Immuni obiettivamente non ha potuto svolgere a pieno e neanche in parte il suo compito la situazione non è evidentemente ritornata in termini tali da poterci permettere così si dice da tutte le fonti governative e scientifiche così da permetterci un Natale delle feste di fine anno e di inizio 2021 spensierate senza tutte le prevenzioni del caso è il motivo per cui non ci sono le attività sciistiche nel nostro paese ma ci sono subito fuori dai nostri confini nord sia in Svizzera sia in Austria e come sappiamo ci sono altre forti limitazioni e quelle ancora più forti stanno per essere di nuovo appunto elencate per conto del governo da parte del Presidente del Consiglio vedremo se c'è anche qualche cosa non se ne è parlato per quanto riguarda prima della vigilia di Natale prima del 24 perché sappiamo di questa lunga zona rossa puntata per soli 4 giorni di arancione di 4 giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 di gennaio ma non sappiamo se ci saranno limitazioni per le giornate di domani e dopo domani perché stiamo parlando ovviamente di tutte le misure che sono state prese anche in considerazione delle immagini che si sono viste nello scorso fine settimana gli assembramenti nei centri cittadini a dire il vero appunto quella come si sa quelle note polemiche sono state accompagnate anche dalla constatazione che in realtà ci sono gli acquisti di Natale da fare e c'è anche oltretutto l'incentivo del cashback che proprio da parte governativa è stato proposto tra l'altro oggi è oggetto anche di una contestazione della Banca Centrale europea c'è da dire anche però un'altra cosa che lo stiamo per vedere ieri e oggi al Senato si sono visti assembramenti che ovviamente non sono sanzionabili se non per i regolamenti interni di Palazzo Madama dell'Assemblea di Palazzo Madama ma questo ci danno il senso contemporaneamente sia del fatto che la situazione resta tesa sotto il cielo della politica sia del fatto che molto spesso gli assembramenti sono inevitabili vediamo cosa è successo oggi pomeriggio al Senato e sentiamolo grazie a tutti Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti. Noi a dire il vero pensiamo che con la votazione di oggi si attui un provvedimento che è molto più rispondente alle necessità del nostro Paese, soprattutto in una fase in cui quella dell'immigrazione non è più il problema principale, anzi non lo è per la gran parte. Anche perché, va detto anche quell'altro aspetto di cui non si parla mai, al di là di ogni altra considerazione, la cosa davvero sorprendente per gli scienziati che infatti non ne parlano è che il continente che più è stato risparmiato dall'offensiva del virus è stato proprio l'Africa. Si diceva che il Presidente del Consiglio avrebbe parlato attorno alle 19, poi si è detto attorno alle 20 e 20, poi si è detto alle 20 e 45, poi si è detto attorno alle 21 e 20, in occasione della chiusura dei programmi di accesso alla prima serata televisiva. Adesso però siamo alle 20 e 44 in questo momento e siccome ci dicono molte fonti che parlerà alle 21 e 45, evidentemente noi ora pensiamo di essere al cospetto, direttamente nell'immediata vigilia, questione di secondi, delle parole del Presidente del Consiglio. Tra l'altro si tratterà di una conferenza stampa, come abbiamo già visto fare nell'occasione dei DPCM di queste settimane e di questi ultimi mesi, con la presenza quindi fisica ma distanziata e con mascherina di alcuni rappresentanti della stampa parlamentare. Le domande non saranno soltanto direttamente sul nuovo provvedimento, sul decreto che è stato varato dal Consiglio dei Ministri. Questo evidentemente porterà anche su altre cose di cui si è parlato. Forse, adesso queste sono ultimissime informazioni, ma ve le do perché l'attesa si sta prolungando, perché sono passate anche, sia pure di pochi secondi, le 21 e 45. Secondo alcune fonti, in realtà abbiamo sempre parlato di questi famosi 28, 29 e 30 dicembre come dei giorni in cui si è risparmiati dalla zona rossa. Secondo altre fonti, in realtà la zona rossa riguarderebbe tutti i giorni, a partire dal 24 dicembre e fino al 6 gennaio compreso. Si tratta quindi, come è chiaro, di 14 giorni di fila di zona rossa, quindi con tutti i divieti che vengono dal trovare l'Italia in quella situazione. Il coprifuoco dalle 5 alle 22, il divieto di uscire se non per urgenti questioni di lavoro o di necessità o sanitarie. E quindi la chiusura di tutti gli esercizi se non quelli dedicati ai generi di prima necessità o sanitari. Tutto questo ovviamente favorito, non mettiamo tra virgolette, dalla chiusura sia delle scuole sia di buona parte degli uffici, delle attività produttive e amministrative. Quindi l'ipotesi che si fa a largo da alcune parti è che in realtà noi abbiamo parlato della famosa bozza pre-consiglio dei ministri, ma poi potrebbe essere passata addirittura una linea più dura, quella secondo la quale tutti i 14 giorni sarebbero da Italia zona rossa, senza nessun elemento di distinzione. Anche questo è l'altro aspetto che in realtà fa giustizia della precedente catalogazione, per cui si studiavano le situazioni dal punto di vista della diffusione della pandemia, della ricettività degli ospedali e delle terapie intensive, e poi si catalogava come rossa, arancione o gialla ciascuna delle regioni. Adesso questo non succede più, anche se poi per un paradosso dal 20 alcune regioni diventeranno gialle soltanto a quel punto per quattro giorni, 20, 21, 22 e 23, perché dal 24 scatterà l'obbligo per tutti di stare sotto le disposizioni da zona rossa, che molte regioni, soprattutto del nord, hanno già conosciuto, che hanno conosciuto peraltro fino a poco fa sia il Piemonte, sia la Lombardia, la Toscana, tra le altre, ma anche la Calabria al sud e l'Abruzzo. Quindi molte regioni hanno già conosciuto la situazione che si viene a configurare uguale, secondo la visione più rigorista che potrebbe essere passata in Consiglio dei Ministri, insomma è ciò che ci aspetterebbe per tutti i 14 giorni dell'arco festivo che va da Vigilia di Natale all'Epifania. Si era parlato appunto soltanto di festivi e prefestivi, e invece questo varrà per tutto il periodo. E' quello che filtra da alcune fonti di aria, diciamo anche questo, di aria del Partito Democratico. E' lì che si trova la parte dello schieramento più rigido, più rigorista, si è detto, di chiusura per salvaguardare la salute in vista poi di poter sanare e riaprire. I maggiori rappresentanti di questo fronte negli ultimi giorni giornalisticamente e non solo sono stati identificati proprio in Dario Franceschini, nel Ministro della Salute e Speranza, nel Ministro per i rapporti con le regioni Boccia. Sarebbero loro quelli che hanno premuto di più per la linea più stretta, più stringente, più intransigente nelle misure da intraprendere e fatalmente da imporre ai cittadini. Proprio per una situazione che si è fatta molto molto più difficile. Vi ripeto ancora una volta, noi possiamo parlarne finché vogliamo dell'argomento, parlando di indici, eccetera. Ma se io guardo, perdonatemi il riferimento che dopo tante ore mi posso permettere di fare, all'attività, a tanti decenni di attività professionale, mai mi era capitato di dover parlare di migliaia di morti senza che si dicesse nulla di queste vittime, parlandone soltanto come dei numeri. Tra l'altro, 2000 morti vi dicevo in tre giorni, ma se noi andiamo a vedere, in queste ore si supera nella seconda fase il numero delle vittime della prima fase. Cioè, la prima fase aveva fatto, secondo i conti, che erano stati arrivati, 34 mila decessi avevano provocato. E siamo a raggiungere e superare ormai quella analoga cifra nel conto complessivo. E questo è un elemento che, imperdonabilmente, siamo tutti, in modo quasi ineluttabile, portati a far diventare soltanto numeri, senza ricordare che si è trattato di 68 mila italiani. Stiamo parlando di questo, che sono mancati, proprio per l'offensiva del Covid. Come diceva il Presidente dell'Istat, dell'Istituto Centrale Nazionale di Statistica Blangiardo, praticamente ci avviamo a chiudere quest'anno con il bilancio più pesante del tempo di pace. Non solo, più pesante dello stesso 1945, ultimo, come sappiamo, per praticamente quattro mesi, anno di guerra. Anche nel 1944 non ci furono altrettante vittime, anno di guerra, di guerra intensa. Attenzione, Conte. Le misure messe in campo dal Governo e il sistema zone hanno funzionato, tant'è che abbiamo riportato sotto controllo la curva del contagio grazie alla responsabilità dei cittadini. Questo metodo, lo ricordo, ci ha permesso di evitare il lockdown generalizzato che avrebbe danneggiato a lungo e gravemente, peraltro per la seconda volta, il nostro tessuto sociale ed economico. Ricordo che quando siamo partiti con questo nuovo metodo a zone, eravamo con l'RTA 1,7, l'abbiamo riportato a 0,86, tant'è che nei prossimi giorni, regionalmente, tutte le regioni potrebbero entrare nell'area gialla. La situazione però rimane difficile e rimane difficile in tutta Europa. Francia, Spagna, Regno Unito, ma anche la Germania, l'Olanda hanno numeri in crescita. In alcuni paesi la Svezia in forte crescita. Il virus continua a circolare dappertutto. Si lascia piegare, ma non si lascia sconfiggere. È per questo che anche tra i nostri esperti c'è forte preoccupazione che la curva dei contagi possa subire un'impennata nel periodo natalizio. In particolare, lo voglio sottolineare, il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito l'altro giorno, ci ha fatto pervenire un verbale per cui è espresso forte preoccupazione per gli assembramenti, la diffusa voglia, peraltro comprensibile, di convivialità e socialità che si accampagna in questi giorni, in particolare nelle festività natalizie. Dobbiamo quindi intervenire e vi assicuro che non è una decisione facile, è una decisione sofferta, per rafforzare il regime di misure che sono necessarie per affrontare le prossime festività in modo da cautelarci meglio anche in vista della ripresa più generale delle attività che avverrà a gennaio. Ecco allora che abbiamo da poco adottato un decreto legge, si è svolto un Consiglio dei Ministri, questa volta con decreto legge, non con DPCM, che offre un punto di equilibrio tra la stretta, che dobbiamo necessariamente mettere in campo, e le deroghe necessarie, comunque in considerazione dell'importanza sociale, vorrei dire anche ideale, che queste prossime festività hanno nella nostra comunità nazionale. Quindi riassumo le misure che adotteremo. Possiamo ragionare di una zona rossa nel periodo del 21 dicembre al 6 gennaio. Sarà vietato ogni spostamento tra le regioni. Per scongiurare un innalzamento della curva dei contagi, l'intero territorio nazionale quindi sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi. Ripeto, dal 24 al 6. Per chiarezza indichiamo i giorni. I giorni 24, 25, 26, 27 dicembre, ancora 31 dicembre, e poi 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. La zona rossa contempla le seguenti misure. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità, salute. È possibile però, ecco, questa è una misura particolare che introduciamo, ricevere nella propria abitazione sino a due persone non conviventi dalle ore 5 alle ore 22. Queste due persone potranno portare con sé anche i figli minori di 14 anni, che sono quindi esclusi dal computo, e le persone con disabilità o anche conviventi non autosufficienti. Questa misura l'abbiamo pensata per consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo. È consentita inoltre l'attività motoria nei pressi della propria abitazione e l'attività sportiva all'aperto in forma individuale. Per quanto riguarda le altre misure, ricordo che con questa zona rossa ci sarà la chiusura degli esercizi commerciali, dei centri estetici, dei bar, dei ristoranti, tranne l'asporto fino a ore 22 e le consegne a domicilio. Restano invece ad aperti alcuni esercizi come supermercati, negozi di beni alimentari, di prima necessità edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Peraltro le chiese e i luoghi di culto saranno aperti per le funzioni religiose saranno aperti fino alle ore 22. Passiamo alla zona arancione. L'intero territorio nazionale sarà zona arancione nei giorni feriali, per maggiore chiarezza l'indico, giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio. In questi giorni ci si potrà spostare esclusivamente all'interno del proprio comune di abitazione e di residenza senza dover giustificare il motivo. Però qui dobbiamo raccogliere un indirizzo del Parlamento che è stato chiaro per venire incontro a chi abita nei comuni più piccoli sono permessi gli spostamenti dei comuni fino a 5.000 abitanti per un raggio di 30 chilometri. Tuttavia non ci si può spostare nei capologhi di provincia per non contribuire agli affollamenti dei capologhi di provincia, quindi alle città più grandi. Rimangono chiusi i bar e i ristoranti, eccezione fatta per l'asporto, fino alle 22, le consegne a domicilio. I negozi saranno aperti fino alle ore 21. Abbiamo impiegato un po' di tempo, io stesso inizio questa conferenza stampa un po' più tardi perché volevamo inserire direttamente in questo decreto legge anche immediate misure di ristoro. Comprendiamo le difficoltà economiche e comprendiamo anche l'ulteriore sacrificio economico che chiediamo agli operatori direttamente convolti a queste misure. Siamo al loro fianco. Già nelle scorse settimane abbiamo adottato meccanismi di ristoro rapidi e automatici direttamente erogati sul conto corrente bancario dall'Agenzia delle Entrate. Abbiamo sospeso anche contributi e tributi per coloro che hanno registrato perdite. Sono cose che devono viaggiare insieme. Misure restrittive, nuovi aiuti economici da erogare direttamente in modo efficace con meccanismi sempre più veloci. Chi subisce dei danni economici deve essere subito ristorato e in particolare questo decreto legge dispone un immediato ristoro per circa 645 milioni a favore dei ristoranti e dei bar che nel periodo del 24 dicembre al 6 gennaio sono costretti, ahimè, alla chiusura. riceveranno il 100% di quanto già ricevuto sulla base del decreto rilancio. E vi ricordo che il Parlamento appena concluso la conversione dei primi quattro decreti ristori sono tutti confluiti in un unico decreto e vi ricordo che in sede i parlamentari hanno fatto un grandissimo lavoro sono riusciti anche a rafforzare queste misure di sostegno. Ancora il Parlamento in queste ore e in questi giorni sta completando l'esame e quindi l'approvazione della legge di bilancio che contiene come già annunciato ulteriori interventi con il contributo delle forze di maggioranza ma qui devo sottolinearlo anche con le forze di opposizione il Parlamento sta rafforzando il regime degli interventi a favore delle categorie che sono più esposte a questa crisi economica e sono anche meno garantite. Parlo ad esempio dei lavoratori autonomi e anche delle partite IVA. Stanno facendo un grande lavoro tutti insieme e questo è un beneficio per tutto il Paese e soprattutto per le categorie più colpite. In ogni caso con il nuovo decreto di gennaio il nuovo decreto ristori di gennaio provvederemo a compensare delle perdite anche gli altri operatori su cui non possiamo intervenire in questi prossimi giorni oltre quindi ai ristoranti e bar e qui interverremo anche con delle misure perequative per evitare che si creino ingiuste differenziazioni dei trattamenti. Non escusiamo ovviamente i nuovi interventi dico solo una cosa in questi giorni c'è molta critica per il cashback voglio ricordare che questa misura non è alleata degli assembramenti è alleata dei cittadini è una misura di sistema per la rivoluzione del Paese e i benefici vanno ben oltre questo periodo della pandemia siamo qui a compiere in questi giorni con il cashback il primo passo per la integrale digitalizzazione del Paese e per pagamenti in piena sicurezza e tra l'altro diventa in questi giorni anche un concreto sostegno alle famiglie in un periodo così complesso ricordo anche che pur nei giorni di chiusura ci sono beni negozi di prima per generi alimentari di prima necessità quindi si potranno pane, latte, pasta acquistare con uno sconto del 10% insomma abbiamo davanti la fine di questo incubo ci avviamo pur con misure restrittive al vaccine day il giorno 27 dicembre noi in Italia un primo gruppo dei Paesi europei insieme ad altri Paesi europei ci sarà il vaccine day questo è molto importante ovviamente non risolveremo il problema il 27 dicembre dovremo attendere i primi mesi dell'anno dove inizieranno poi a distribuirsi queste dosi interverremo con un piano vaccinale che abbiamo già abbiamo già anticipato dobbiamo trovare in questa certezza la forza di chiudere questo brutto capitolo insieme dobbiamo ancora rimanere concentrati non abbassare la soglia di attenzione prego le domande partiamo con partiamo con la prima domanda di TPI Giulio Gambino prego grazie buonasera presidente sono passati circa dieci giorni da quando è stato deciso che si sarebbe dovuto arrivare a un nuovo decreto allora le chiedo questo non le sembra che dopo tutto quello che è stato anticipato sui giornali tutto quello che si è detto non si sia un po' troppo perso tempo visto che alla fine le decisioni così tanto restrittive sarebbero comunque dovute essere imposte in tal senso e alla luce di questo ritardo aggiungo e mi sembra inevitabile se ritiene che sia fondamentale l'obbligatorietà della vaccinazione covid in Italia grazie le rispondo subito no non stiamo perdendo tempo perché queste misure riguardano il periodo 28 dicembre 6 gennaio quindi si tratta semplicemente di un intervento ulteriore per rafforzare un piano natalizio che avevamo già predisposto con un certo anticipo però io l'ho detto dall'inizio noi ci muoveremo sempre su basi su evidenze scientifiche se i nostri scienziati se i nostri esperti se il CTS ci dice che ragioni di precauzione tenendo conto di tutto quello che sta succedendo in Europa non solo in Italia ma in tutta Europa si preannuncia una pressione una circolazione del virus sempre più insistente che richiede per queste occasioni particolari di socialità ulteriori misure rafforzative noi difendiamo il nostro Paese e interveniamo subito anche a distanza di qualche giorno abbiamo sempre fatto con coscienza e responsabilità per quanto riguarda il tema dell'obbligatorietà noi non prevediamo obbligatorio il vaccino l'abbiamo già detto abbiamo fatto una precisa scelta lo offriamo facoltativamente ma sicuramente abbiamo già iniziato a promuovere una campagna per spiegare a tutti che il vaccino sarà attestato dalle istituzioni più accreditate e qualificate in Europa sarà un vaccino sicuro e ovviamente rispettando le priorità per le varie categorie sarà offerto a tutti e speriamo che tutti si predispongano a sottoporsi a questo trattamento grazie la seconda domanda la fallanza con Michele Esposito buonasera Presidente io farei una parentesi più politica il 6 gennaio è più o meno anche il termine diciamo entro il quale Italia Viva ha chiesto delle risposte a lei al termine dell'incontro di ieri volevo sapere se è in mente una roadmap per uscire da questo impasse e se in questa roadmap c'è anche l'approvazione subito di un recopio di Pran anche prima dell'anno della fine dell'anno grazie per questa domanda abbiamo l'urgenza di completare subito questo confronto come sapete si è completato il giorno scorso ho incontrato tutte le delegazioni ampie delegazioni per tutti i partiti per ciascun partito forza di maggioranza io credo che siano questi chiarimenti questi confronti siano necessari a noi per recuperare le ragioni di coesione chiarezza di intenti condivisione di obiettivi e siano assolutamente auspicati da tutto il paese ai cittadini che non possono certo tollerare che ci sia qualche incertezza nel procedere insieme nella condivisione degli obiettivi da parte forza di maggioranza quindi abbiamo l'urgenza di procedere di completare questo percorso di confronto nei prossimi giorni avremo dei contenuti già sul tavolo ho raccolto varie indicazioni da tutte le forze di maggioranza dovremo definire una lista di priorità torneremo a confrontarci con le delegazioni delle rispettive forze politiche tutti insieme questa volta e dovremo su questi punti definire una priorità dovremo dire al paese al di là ovviamente della grandissima sfida della pandemia dove stiamo lavorando della grandissima sfida del piano vaccinale dobbiamo dire al paese dove vogliamo andare e sicuramente in quest'ambito rispondo alla seconda domanda c'è anche il recovery plan è un piano che dobbiamo condividere con le forze di maggioranza e dobbiamo un piano che poi ovviamente dobbiamo approvare tutti insieme nel confronto con tutte le parti sociali nel confronto col Parlamento ci saranno vari step ancora per completare il piano finale ci sarà tutta la possibilità di passare più volte al Parlamento e di avere un pieno confronto con tutti ovviamente partendo dalle forze di maggioranza abbiamo l'urgenza di definire questo recovery plan e anche su questo sono arrivate varie indicazioni dalle forze di maggioranza ma qui credo che dobbiamo essere pronti liberi disponibili tutti a perfezionare sino all'ultimo minuto sino all'ultimo secondo questo piano nell'interesse del Paese non c'è nessun dogma il lavoro che è stato fatto istruttorio sin qui non prefigura nessun paletto dobbiamo tutti cercare di essere disponibili in questo confronto a raggiungere quegli obiettivi strategici che abbiamo già delineato nelle linee guida che sono stati approvati del Parlamento terza domanda la Fascai TG24 Iana Gagliardi Presidente buonasera il ritardo di questa conferenza stampa e delle parole che tutti gli italiani aspettavano da ore mi porta a chiederle prima di tutto visto che appunto le misure che voi dite che stanno così tanto funzionando però portano al fatto che l'Italia sia uno dei paesi davvero con più morti e con una situazione più tragica nel mondo oltre che in Europa e poi le misure così attese che poi sono le stesse che hanno riportato i giornali e che questa sera lei ha elencato allora visto che erano attese da giorni perché siete arrivati a quest'ora di notte con i 645 milioni da destinare alle attività in difficoltà che sapevate già che sarebbero state in difficoltà per le chiusure e ancora lei ha parlato di due persone soltanto extra tra i conviventi da poter ospitare nelle case ma non si era detto sempre che dentro le case non si può controllare quello che fanno le persone è incostituzionale è illegale nel momento in cui lei parla di spostamenti o forse ho capito male io è un discorso oppure se è dentro le case che riesca meglio questo perché questo non l'abbiamo non l'abbiamo compreso almeno io non l'ho compreso grazie Isso dall'ultima domanda lei dice ma non è in contraddizione con quello che abbiamo detto su in cui un sistema liberal democratico non manda la polizia in casa a controllare cosa stanno facendo nelle abitazioni quante abitazioni ci sono a meno che non ci sia aggiungo una fragranza di reato cioè il sospetto che si stia compiendo un reato e quindi ci sono degli elementi per intervenire direttamente scongiurare che si concluda si completi una fattispecie delittuosa infatti noi non entriamo nelle case degli italiani il divieto quando poi avrete la bontà di leggere il decreto legge è stato concepito come limiti alla circolazione delle persone siccome siamo in zona rossa attenzione lei deve collegare tutto noi interveniamo con un inasprimento dell'area rossa quindi a quel punto lì stiamo prevedendo veramente forti limiti alla circolazione si esce per intenderci con l'autocertificazione in tutti questi giorni di festività e anche giorni prefestivi e allora per compensare introduciamo questo piccolo contemperamento a quel punto lì chi circola per strada dichiarerà dove va se va in un'abitazione si potrà poi verificare eventualmente dopo è chiaro per quanto riguarda la prima domanda invece era sul ritardo guardi i morti sono resteranno una ferita aperta nella nostra comunità nazionale per tutti gli anni a venire lo sono già adesso ovviamente la in ragione dell'alto numero dei decessi ovviamente tra l'altro non siamo soli se voi avete visto la Francia anche ha superato come noi adesso i 60.000 i 60.000 decessi il Regno Unito anche ma qui non si tratta adesso di stabilire delle classifiche dipendono da tanti fattori dipendono ad esempio dal fatto che in Italia c'è una soglia in la grafica molto elevata abbiamo una popolazione molto anziana la seconda al mondo dopo il Giappone dipende dal fatto che le statistiche ci dicono che i nostri anziani hanno tante comorbilità quindi non a caso voi vedete anche che il virus colpisce e quindi la morte colpisce le persone che hanno già delle comorbilità dipende anche dalle abitudini di vita è risaputo che in Italia siamo un paese in cui gli anziani di solito li teniamo vicini a noi non vivono come se mai con abitudini altri paesi hanno diverse abitudini di vita insomma dipende da una serie di fattori con gli scienziati stiamo assolutamente cercando di approfondire tutti questi dati però qui la politica dismette il proprio ruolo e affida la risposta alla scienza prego Francesca mi fa piacere che lei la fa così facile quindi fosse stato per lei e le disponeva già da tempo però le ho detto guardi il Parlamento in queste ore in questi giorni tra l'altro maggioranza e opposizione stanno lavorando allacremente per mettere a punto è già il lavoro che hanno fatto i quattro decreti ristori ridurli in uno è stato un grandissimo lavoro sulla legge di bilancio si sta lavorando con ulteriori misure di sostegno avendo oggi deliberato ripeto non siamo in ritardo se guardiamo alle misure vanno dal 24 al 6 quindi noi comunque stasera va in gazzetta ufficiale interveniamo preventivamente e contestualmente mettiamo sul piatto 645 milioni che abbiamo trovato in queste ore le assicuro che al Ministero dell'Economia come anche il Ministero dello Sviluppo Economico la ragioneria stanno lavorando guardi non lo dico per una clausola di stile retorica con tutta questa mole di interventi quest'anno abbiamo fatto non so quante finanziarie pensare che abbiano avuto qualche motivo come dire di distrazione è un fatto ingiusto nei confronti di tutte le persone che stanno lavorando ultima domanda Francesca Tana dell'agenzia Italpress buonasera Presidente io invece volevo fare una domanda sulla scuola la Ministra Solina punta rientro in presenza il 7 gennaio però in molti chiedono di posticipare questa data alcuni governatori ma non solo in quanto in queste condizioni secondo loro potrebbe essere molto rischioso lei si sente di rassicurare cosa state facendo per il trasporto pubblico locale soprattutto se state prevedendo finalmente uno scaglionamento degli ingressi magari per i ragazzi delle superiori perché stanno pagando tantissimo grazie guardi questa pandemia cosa ci sta insegnando ci sta tra le lezioni che ci dà e che dobbiamo mantenerci sempre pronti a intervenire avendo un metodo massima precauzione adeguatezza proporzionalità delle misure base scientifica e trasparenza trasparenza nel parlare trasparenza nel dire parlare ai cittadini mettere a disposizione i dati detto questo per quanto riguarda il capitolo della scuola sapete che a questo governo sta particolarmente a cuore la piena ripresa delle attività in presenza per tutto il comparto per tutte le comunità scolastiche quindi anche per quelle scuole superiori di secondo grado che in quest'ultimo periodo sono passate con la didattica a distanza perché anche per i nostri alunni di età più grande vogliamo ovviamente offrire anche a loro la pienezza la ricchezza di un'offerta didattica che ovviamente prevede anche un'interrelazione in presenza vis a vis con i compagni con i docenti abbiamo programmato attualmente un recupero della didattica in presenza a partire dal 7 gennaio per fare questo stiamo lavorando tantissimo in questi giorni proprio stasera durante il Consiglio dei Ministri c'è stata una pausa in cui tutti i ministri interessati in particolare la ministra Zolina la ministra De Micheli e il ministro Boccia mi hanno informato che i tavoli presso le prefetture col coordinamento anche della partecipazione dei rappresentanti regionali dei sindaci delle autorità dei trasporti stanno funzionando mediamente molto bene quindi si stanno avvantaggiando molto per creare quella completa sinergia tra comparti diversi il nostro sistema di vita sociale ed economica è complessissimo vi assicuro che è difficilissimo integrare il sistema dei trasporti in questo caso scolastico con la differenziazione degli orari con le esigenze delle comunità cittadini sindaci amministrazioni locali e via discorrendo differenziare gli orari farlo una volta per tutti a livello nazionale abbiamo constatato che è pressoché impossibile ecco perché adesso stiamo cercando di farlo a livello territoriale con la piena partecipazione anche l'accordamento dei prefetti e delle prefetture tutte le autorità tutti gli stakeholders che hanno un ruolo stanno partecipando a questi tavoli questo ci dà maggiore fiducia di poter riprendere a gennaio le attività scolastiche anche in presenza evitando che si possa creare quel meccanismo di afflussi che poi può generare ovviamente delle criticità anche derivate ad esempio sul sistema dei trasporti rimaniamo convinti alla luce dei dati acquisiti che la scuola non sia focolaio di contagio però è chiaro tutto quello che ruota intorno alla scuola va disciplinato con un'organizzazione flessibile che tenga conto delle realtà delle esigenze locali anche perché la città metropolitana la media città il piccolo comune hanno esigenze e problemi completamente diversi vanno trattati di conseguenza grazie grazie a tutti grazie a tutti allora abbiamo sentito la conferenza stampa in realtà è tutto come avevamo già preannunciato e di cui come avevamo già anticipato non noi personalmente non abbiamo la sfera di cristallo ma l'informazione in queste ore zona rossa Italia dal 24 prima c'è stato un lapsus iniziale del 21 dal 24 di questo mese di dicembre fino al 6 di gennaio con 4 giorni di zona arancione diciamo che sono 28, 29 e 30 dicembre e 4 di gennaio poi c'è tutto l'apparato di norme che avete sentito tra cui il fatto che a Natale e comunque questi giorni possano girare soltanto due persone con eventualmente l'accompagnamento di bambini sotto i 14 anni di persone non autosufficienti o di persone svantaggiate ebbene queste persone potranno andare verso una casa privata qui mi permetto di far notare c'è l'unico elemento forte di contraddizione che in parte risultava anche da una delle domande in realtà teoricamente due persone possono andare in una casa privata altre due persone da un'altra parte della città possono andare in quella stessa casa privata eccetera eccetera non c'è un limite di ricezione perché come anche ha ripetuto il premier non si va poi a indagare nelle case delle persone nelle case private questa è la questione che forse si pone ed è il limite del decreto da questo punto di vista non c'è una norma su chi si può ospitare c'è una raccomandazione che riguarda due persone non congiunte ma non c'è un divieto poi per tutto il resto l'unica vera novità perché si era partiti dai 400 milioni di cui si era parlato questa sera al telegiornale di ristoro per gli esercenti che dovranno chiudere proprio ristoranti però la ristoro ha una polisemica in questo caso bar e altri esercizi simili erano 400 poi dalle dichiarazioni di Teresa Bellanova erano diventate 550 qui il premier parla di 645 milioni e questa somma che è lievitata probabilmente il motivo del ritardo anche della conferenza stampa vi abbiamo detto tutto vedremo poi nei giorni prossimi come tutto questo evolverà era l'attesa conferenza stampa del presidente del consiglio Conte in genere alla fine del telegiornale quando poi c'è anche propaganda vi dico gli ospiti ma questa sera è una puntata speciale quindi linea a Diego Bianchi ci vediamo domani sera buona sera